che che pa paura e c'è sta visione c'è stato l'alluvione immaginate che questa sia la vostra casa e che nel 2013 un alluvione l'abbia fortemente danneggiata vi siete rimboccati le maniche avete pulito aggiustato e ristrutturato poi dopo solo due anni arriva un'altra alluvione e vi porta via di nuovo tutto come vi sentireste questo è quel che è successo ad una famiglia di un piccolo paese di benevento noi abbiamo deciso di adottarla puoi farlo anche tu basta inserire una causale specifica nel versamento donna donna e donna che poi ti senti meglio puoi donare attraverso un bonifico intestato a caritas diocesana di benevento indicando nella causale alluvione famiglia r castelfranco codice iban i t 0 3 a 0 5 0 1 8 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 2 8 8 tutte le donazioni eccedenti la cifra necessaria saranno comunque devolute in beneficenza alle vittime dell'alluvione il fango imprigiona come l'indifferenza non lasciamoli soli ti sei ripreso dallo spavento e vai a fare dal versamento Grazie.